E' arrivato il giorno. Allora, bella signora, dove la porto? Venite a trascorrere la vostra seconda giovinezza in un palazzo indiano. Arche e baldacchine, è una miriade di balconi. È un complesso di lusso dedicato esclusivamente a clienti di una certa età. Come la costa brava. Sì, più o meno, ma con tanti elefanti. E per lei questa è la prima volta in India? Sì, questo paese è molto più civilizzato di quanto uno possa immaginare. Vuole assaggiarlo, signora? Dovrebbe chiamarsi Alu Kapparata. Non so neanche pronunciare il nome, figuriamoci se lo mangio. Signore e signori, benvenuti al Best Exotic Marigold Hotel. Ho un indiano alle spalle. Il che significa che forse non tutto funzionerà in modo perfetto. Ho deciso di ripararlo da solo. Cominci ridandoci i soldi. Se è questo che desidera, allora li avrai i soldi. Davvero? Non c'è nessun problema, le restituiremo l'intera somma. Si sente bene? Devo solo bere un po' d'acqua. Quello era ginitonica. Adesso lo so. E io ho fatto un sogno, mamici. Creare una casa di riposo così bella che i nostri clienti non vorranno più morire. Questo uomo è morto. Sono all'inferno. Io sono Norman. È in gran forma. Come prego? Oddio. Ma non ci vedi? Siamo soltanto dei reperti archeologici che si trascinano in giro. Mi dia il 5? No, scusi, non so come mi sia venuto in mente. Non l'ho mai fatto. Come fa a sopportare questo paese? Che cosa ci vede che io non vedo? La luce, i colori, i sorrisi. C'è così tanto da vedere. Crede che staremo bene? Vedrà che staremo meravigliosamente. Su Naina andrà tutto bene alla fine. E se non andasse tutto bene vuol dire che non è ancora la fine. Mi scusi, ma non ha paura di fare sesso alla sua età? Se muore, pazienza. Grazie. Grazie.